Sabato sera alle 22.10 i vigili del fuoco sono intervenuti in viale Trieste a Montecchio Maggiore lungo la strada regionale 11 poco lontano dalle sorelle Ramonda per l'incendio di un furgone presso un distributore carburante. Le fiamme divampate durante il riempimento di alcune tanniche nessuna persona è rimasta ferita ma l'incendio ha gravemente danneggiato la stazione di servizio. I pompieri arrivati da Vicenza e da Arzignano con due autopompe, due autobotti e 12 operatori hanno circoscritto e spento le fiamme che hanno bruciato un furgone. La pensilina, una colonina di distribuzione è danneggiata un'altra evitata un'esplosione. Un cliente era intento a riempire delle tanniche di benzina quando per causa in corso di accertamento si sono sviluppate le fiamme che si sono subito estese sul posto anche i carabinieri. Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e messe in sicurezza della stazione di servizio sono terminate dopo circa 4 ore.